Grazie di essere presente qua, è sempre molto importante riuscire a interloquire personalmente con i nostri assessori. Quando esprimiamo insoddisfazione alle risposte date, spesso non si fa riferimento al fatto che non sentiamo quello che vorremmo sentirci dire, ma spesso l'insoddisfazione è riferita al fatto che non si danno risposte e anch'io in riferimento a questa interrogazione esprimo insoddisfazione perché non ho avuto risposte alle domande che abbiamo chiesto, perché per me è inaccettabile, faccio un esempio solo, quando si chiede, e queste sono domande che noi esprimiamo nelle istituzioni facendoci portavoce di tanti comitati, cittadini, ma anche di qualche sindaco, quando si chiede se per gli aspetti sociosanitari è stato valutato l'impatto che hanno le emissioni degli inceneritori, tenendo conto al contempo delle emissioni provenienti ad altre importanti industrie, come la T-Oxide, per gli effetti moltiplicatori, che guarda caso è quello che il Ministero ha rilevato per l'aeroporto di Firenze, il punto centrale è proprio quello, degli effetti moltiplicatori. Io vorrei una risposta, o sì o no, sì è stato valutato l'impatto, abbiamo fatto questo per valutare l'impatto, no, non è stato valutato l'impatto perché riteniamo che non si debba fare, però non posso accettare che mi si dica c'è un ente che è investito di questa cosa. Che risposta è? È una non risposta. La procedura dell'iteratorizzativo di questo impianto, a parte che non ho capito è un nuovo impianto o non è un nuovo impianto, perché mi si dicono due cose diverse e approfondiremo anche noi, forse ho capito male io la risposta. Ma io ricordo che in questa procedura c'è stata una dimissione clamorosa di uno dei tre commissari, io ero presente e le motivazioni della dimissione sono più che nobili di questo commissario di parte, perché lì erano tre, c'è il presidente, il commissario della parte proponente, quello dei comitati cittadini e di altri portatori di interesse. Il commissario si è dimesso perché ha avuto in ritardo la documentazione sulla quale fare poi le osservazioni alla procedura. Sono state comunicate in meno di 24 ore rispetto all'appuntamento fissato. Io ero presente, quindi qua ci sono delle gravi, secondo noi, irregolarità anche nell'iter. E ci chiediamo, ma se la regione è credente che comunque deve supervisionare un po' il tutto, quali sono state queste azioni di garanzia perché la procedura venisse veramente fatta come prescrivere la legge, fatta negli interessi della tutela dell'ambiente dei cittadini? Per noi questo è mancato. Ripeto, la sentenza del Consiglio di Stato è un atto molto importante, non è stato minimamente tenuto in conto in questa procedura, né la regione prende posizione in riferimento a questo atto giuridico, anzi, va in netta contrapposizione a quanto il Consiglio di Stato prescrive e quindi quando vuole prende posizione, mai nell'interesse dei cittadini e dei territori. Grazie comunque di essere qua.